Salve e benvenuti in una nuova puntata di Studionosis in una nuova tavola rotonda. Ultimamente mi sono ritrovato a rileggere, a ristudiare, a riaffrontare lo studio della nascita e della tragedia di Friedrich Nietzsche, un autore imprescindibile e un'opera imprescindibile, sia per chi studi filosofia all'università, sia per chi vive di filosofia, sia per chi studia in maniera autonoma la filosofia. La nascita e la tragedia di Nietzsche è un'opera imprescindibile. Ma un problema, su cui poi ho deciso di fare questo video, che mi sono trovato subito ad affrontare, sono le varie edizioni di quest'opera. Il setup da consigliarvi, il mio setup da consigliarvi, un setup che ruota intorno principalmente a due edizioni, l'edizione ad Elfi e l'edizione in Audi. Ovviamente ci sono tantissime edizioni, le più svariate, con i più intenti, dalle super economiche alle molto costose come questa che tengo in mano, ma ognuna è tarata su un'esigenza, su un tipo di lettore, su un tipo di studioso. Vedremo, ne vedremo principalmente tre edizioni, soprattutto quelle che sono riuscito anche a trovare nelle biblioteche e che sono riuscito quindi a portarvi qui, ma ce ne sono davvero tantissime. Voi ditemi quale avete, quale avete letto, se lo dovete leggere, soprattutto se comprerete, quale comprerete, se non l'avete ancora nella vostra libreria, ma avviciniamoci subito al tavolo per parlare dei libri che ho con me. La prima opera con cui partiamo è La nascita della tragedia, pubblicata da Adelfi, edizione Deluxe, quella che tenevo in mano poco fa per intenderci. Questa edizione ovviamente è un'edizione di lusso, è un'edizione in tutto e per tutto, che si riconosce per la sua qualità, per la sua bellezza, per la sua accuratezza nel dettaglio, soprattutto per la durabilità. Tra poco lo vedremo. Innanzitutto, vediamo subito, è un libro di medio formato, con una bellissima copertina. La copertina qui è rigida, questo è un materiale telato, quindi, esatto, telato, rigida, semi-rigida. Infatti possiamo un po' piegarlo, questo forse è un po' la pecca dal punto di vista dell'estetica di questo libro, ma è anche un libro comodo, da questo punto di vista, perché è un po' più flessibile. A me piace avere un po' più di flessibilità. Mettiamo da parte la copertina, copertina che ha un doppio strato. E abbiamo subito il libro. Il libro è, come abbiamo detto, telato, ha una rilegatura completa, ma soprattutto è un libro in tonso. Le pagine vanno tagliate con un tagliacarte, questo dà un effetto sicuramente anche di qualità di molto superiore rispetto ai normali libri deluxe di altre edizioni di altri autori. Infatti, come potete vedere qua, le pagine sono tagliate. Questo è un effetto che viene proposto per dare l'idea che sia un libro davvero curato nel dettaglio, perché poi, di fatto, non è totalmente in tonso. Solitamente, quando si tagliano le pagine del libro, si tagliano le pagine laterali e anche le pagine sopra, perché tutto viene piegato da un grande foglio. Mentre qui abbiamo già un iniziale taglio che viene operato, infatti non tutte le pagine sono rilegate, solo alcune salto arghiamente per tutto il volume, altre sono già state tagliate. Ad esempio, questa è una pagina che è già stata tagliata, infatti vedete come è netto il bordo, non è stato strappato. Invece, dopo, abbiamo altre pagine che sono state invece tagliate con un tagliacarte. L'opera che ho qui con me, ecco, qui abbiamo ad esempio una pagina, non so se si può vedere dal bordo. Dal bordo cercherò di avvicinarmi. Frastagliato, anche che mostra le diverse pagine, si vede che è stato tagliato con un tagliacarte. Questa è di estrema qualità. Andiamo alla consultabilità, però, a questo punto. Questa, in questa opera, è massima, nel senso che abbiamo veramente un'opera che si può aprire praticamente, quasi totalmente. Abbiamo un ampio margine dove va a notare. La qualità della carta è tra le migliori che si possano trovare in circolazione. La scrittura, il font, guardate come è ordinato, lascia anche un margine sinistro. Quindi è un'opera davvero di straordinaria qualità. Opera che ovviamente andremo a pagare. E tra poco vedremo anche quanto. Questa è l'edizione Adelphi. L'edizione Adelphi ha una storia incredibile. Adesso non la voglio, non voglio diventare prolisso. Ma l'edizione Adelphi, che sono le edizioni curate da Giorgio Colli e Mazzino Montinari, sono edizioni estremamente, che hanno una tradizione proprio che si colla, che si radica all'interno della storia, della riscoperta, della ritraduzione, del riordino delle opere di Nice. Perché le edizioni curate da Giorgio Colli e Mazzino Montinari, se non sbaglio, sono proprio le prime in Europa che sistematicamente riproposero l'opera omnia di Nice, ritradotto, rivalutato. Sapete che Nice andò incontro a un bando, perché è autore utilizzato dal nazismo, quindi dopo il nazismo non se ne voleva sapere. Invece autori come Giorgio Colli e Mazzino Montinari ripresero il pensiero di Nice, lo riabilitarono e curarono questo genere di opere, riordinando tutti i lavori, anche i lavori più caotici. Questa edizione ha un costo molto elevato rispetto a quelle che vedremo tra poco, perché ha un prezzo che si aggira intorno ai 60 euro. Le edizioni che vedremo tra poco vanno dai 6 euro ai 20, quindi un'opera che costa più del triplo, cioè costa all'incirca il triplo. di un'altra opera del valore di 20 euro. Ma non è così, potremmo dire, folle, perché questa non è solo la nascita della tragedia, non comprende solo quest'opera, ma comprende anche le considerazioni in attuali, prima, seconda e terza, che sono opere importantissime di Nice, sono opere che si trovano difficilmente, anche non si trovano separate insieme alla nascita della tragedia, e sono in poche edizioni, solitamente neanche di grandissimo pregio. Quindi, voi comunque considerate che qui avete tre operette supplementari da aggiungere, che se voleste prendere a parte, andreste a spendere all'incirca 15 euro in più. Quindi comunque il prezzo rientra un po' negli standard e inizia ad essere già interessante, se uno, ovviamente, vuole avere altre opere di Nice. Ma andiamo con la seconda opera, quella che fa un po' da avversaria, quella che entra un po' in contrasto, che può essere presa come un po' la nemica delle edizioni ad Elfi, quella che qualitativamente, anche contenutisticamente, può rappresentare una minaccia, chiamiamola così, è la nascita della tragedia di Einaudi. Quest'opera è, togliamo il segnalibro, quest'opera è un'opera di pregio, sinceramente a me non piace, perché è un'opera che comunque ha un buon prezzo, si gira sui 20 euro, adesso vediamo se riusciamo a inquadrare. Siamo sui 20 euro, ma è un'opera che è davvero qualitativamente di molto inferiore. È un'opera che non ha fascicoletti né rilegatura, quindi è un'opera che non durerà nel tempo, è un'opera che darà tanti problemi di conservazione. La copertina, come potete vedere, dopo poche aperture è già deformata, è una copertina molto leggera, è una copertina molto labile, potremmo dire, e la carta è molto porosa, è una carta di pessima qualità. La lettura è comunque abbastanza agevole, quindi si riesce a consultare bene, però vediamo già come sia difficile aprire un volume di questo tipo. La colla tiene rigida la copertina e noi non possiamo, se non andando veramente a sforzare al limite, consultare il volume. Inoltre, l'inizio pagina è molto attaccata al bordo e quindi, se noi già iniziamo a confrontare sempre con questa opera, vediamo quanto vari e se dobbiamo andare a sottolineare avremo la classica ondina che darà molto fastidio se sottolineiamo con il righello, se sottolineiamo con gli evidenziatori. Ecco, quindi questo è un po' i difetti qualitativi di questa opera. Allora, perché l'ho portata qui? Perché me la voglio consigliare? È un'opera che ha un grande apparato di note e quindi, mentre le opere ad elfi, sia di questa edizione deluxe, sia le opere ad elfi economiche, le classiche gialle, che io non ho qui con me, ma tra poco ne parleremo, hanno poche apparato di note. Hanno il classico apparato di note di Giorgio Colli e di Mazzino Montinari, che è un apparato di note essenziale, che se non avete già un'infarinatura di Nietzsche, e non conoscete già la portata del pensiero niciano, non vi aiuteranno a capire il pensiero di Nietzsche, anzi, probabilmente vi aiuteranno a fare ancora più confusione. Leinaudi, invece, innanzitutto giustappone un'ottima introduzione, e questo è un po' il punto di forza sulla nascita della tragedia, un'introduzione di 88, 89, facciamo 90 pagine, quindi veramente un saggio, che vi viene, potremmo dire, regalato insieme all'opera della nascita della tragedia. E inoltre, come possiamo vedere anche dalle varie note, ci sono note veramente, veramente estese. Ogni parte dell'opera è, ogni parte dell'opera, possiamo aprire anche casualmente, è seguita da un apparato di note davvero, davvero fitto. Quindi, potremmo dire, sei seguito passo passo all'interno dell'opera. Ecco perché, chi vuole avvicinarsi a un'opera come la nascita della tragedia, senza acquistare testi supplementari, testi che spieghino, testi che divulghino, testi che introducano al pensiero di Nietzsche, con un'opera del genere, si ha sia il testo Nietzschean, sia un'ottima introduzione, sia un estesissimo apparato di note che possano introdurre al pensiero Nietzschean. Insomma, qui abbiamo uno strumento tutto in uno. Ha un prezzo comunque abbastanza alto, sui 20 euro, le edizioni che vedremo tra poco sono molto più economiche, ma abbiamo al contempo tutto quanto, abbiamo tutto insieme. Abbiamo saggio introduttivo, abbiamo note, abbiamo il testo Nietzschean. Questo, potremmo dire, è un'operazione che ha fatto in Audi e ha fatto anche su altre opere di Nietzsche, mi viene in mente la Gaia Scienza, che è un'operazione di divulgazione dell'opera, di esposizione dell'opera nei suoi vari punti. E può essere un'operazione che può interessare, e soprattutto può affiancare anche l'edizione Adelphi, che invece è un'edizione più essenziale, che mira a esporre il pensiero di Nietzsche già per chi ha un'infarinatura del pensiero niciano. Ecco che allora, però non voglio, potremmo dire, con questo abbandonare l'opera di Adelphi, anzi, io personalmente preferirei un'opera di Adelphi, addirittura dell'Axe, ma anche l'opera economica, che io non ho qua con me, ma che voi sicuramente conoscerete, avrete visto in libreria, sono veramente famose, sono le edizioni, quelle gialle, tascabili, della piccola biblioteca Adelphi. Adesso non è la nascita della tragedia, ma giusto per farvelo vedere, vi ho messo qua un'edizione di umano, troppo umano, per intenderci, sono queste. Queste edizioni sono ottime, se volete, un libro innanzitutto tascabile, comodo, con le stesse cose che sono esattamente dentro l'edizione Adelphi, quindi abbiamo lo stesso identico scritto, però in versione più economica, e soprattutto in una versione resistente, perché questa è comunque, questa è un'edizione molto vecchia, come potete vedere, però è un'edizione che resiste bene la prova del tempo, è un'edizione che è rilegata in fascicoletti, quindi può resistere tranquillamente, può resistere tranquillamente alla prova del tempo, vediamo che qua ha preso anche una botta, comunque la colla sta cedendo, ma il libro è consultabilissimo, possiamo veramente consultarlo in qualsiasi momento. Difetti dell'opera economica, allora innanzitutto il grande pregio è il costo, la nascita della tragedia di Adelphi economica, la troviamo sui 10-11 euro, ma abbiamo un volume molto resistente, rilegato, un volume scomodo, questo va detto, perché è un volume che non ha margine, non ha margine né a sinistra né a destra, non può essere un volume da studio intensivo, però è un volume più resistente rispetto all'Einaudi, se dobbiamo parlare di qualità, ma sicuramente è meno completo, perché non ha l'apparato di note esteso, come quello Einaudi. Ecco che allora vi ho voluto un po' esporre i pregi e difetti di queste due edizioni. Se volete comunque puntare su una Adelphi, cosa potete fare? E qui punto interrogativo. Cosa potete fare? Potete affiancare l'edizione Adelphi con un'edizione, con una guida, che io adesso vi consiglio, che ho preso in biblioteca, che è la guida alla lettura della nascita della tragedia di Nice. Potete affiancare La nascita della tragedia, edizione Adelphi economica. Guida alla lettura della nascita della tragedia. E abbiamo due testi. Ovviamente la guida alla lettura della nascita della tragedia è un'opera davvero, davvero consigliata, mirata, che vi espone parte per parte e sicuramente è migliore della sola introduzione Einaudi. Quindi potete fare anche un pensiero di questo tipo. Prendo una Adelphi, prendo l'edizione Adelphi e la affianco con la guida alla lettura della nascita della tragedia pubblicata dalla terza, oppure mi affido alla nascita della tragedia di Einaudi. Ovviamente se non avete limiti di budget, se Nice è un pensatore che volete studiare particolarmente nel vostro percorso di studi, la nascita della tragedia dell'Axe di Adelphi è sempre consigliatissima ed è un manuale che vi porterete dietro per tutta la vita. Io concluderei dicendo di evitare in ogni caso le edizioni molto economiche, o vi ho preso il titolo di esempio La nascita della tragedia pubblicata da Rusconi. Questa è un'opera che trovate all'incirca 6 euro ed è un'opera davvero anche illegibile per com'è organizzata, per com'è descritta. Vediamo che non c'è assolutamente nessun apparato di note, tutto viene scritto una cosa dietro l'altra, non abbiamo lo spazio per prendere annotazioni, non abbiamo la rilegatura, quindi non possiamo neanche confidare in un libro che ci rimarrà nel tempo. Ecco, qui abbiamo veramente uno strumento che costa poco per chi davvero vuole leggere Nietzsche così o provare a capire qualcosa di Nietzsche e sfogliare qualcuno dei suoi libri, però abbiamo uno strumento davvero che ha e che ci dà veramente poco. Quindi evitiamo le edizioni, cerchiamo di evitare le edizioni economiche. Io spero di aver fatto e di avervi esposto un po' e di avervi fatto orientare all'interno dei testi sulla nascita della tragedia. Mi dispiace di non essere riuscito a portare le edizioni economiche ad Elfi. Niente, spero di essere stato utile. Noi ci sentiamo nella prossima Tavola Rotonda.